Un settore che vale il 13% del nostro PIL e che d'estate in genere faceva il pieno, faceva appunto prima di questa emergenza. Ne parliamo con Silvia Dodi, legale di Feder Consumatori. Buongiorno. Buongiorno, Alessio Quaranta, direttore dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, bentornato collegato con noi. Ivana Jelinic, presidente della Federazione Italiana delle Imprese Viaggi e Turismo. Buongiorno anche a te Ivana. Allora, si intravede qualche segnale di ripresa nei flussi turistici verso l'Italia. Allora, Quaranta, vengo da lei perché per molti vacanze vuol dire anche prendere un aereo. Voglio farle vedere questo titolo dalla Correa della Sera, l'estate dei voli fantasma. Alcune compagnie stanno vendendo biglietti su aerei che non decolleranno. Com'è possibile che le compagnie accettano delle prenotazioni su dei voli che sanno che non partiranno mai? Ma guardi, nella fase della ripartenza ci può essere qualche sbagliatura, nel senso che la programmazione sia un po' ballerina, evidentemente. Però, laddove queste cancellazioni nulla hanno a che vedere con la pandemia e con il Covid, ovviamente vanno trattate secondo quel che prete la norma comunitaria. Per cui, se la compagnia programma un volo e per motivi di natura prettamente commerciali decide poi di cancellarlo, deve farsi carico dell'applicazione di tutte le norme comunitarie. A cominciare dalla restituzione del costo del biglietto. Il voucher in questo caso non è obbligatorio, deve essere espressamente accettato dal passeggero, il quale, se preferisce avere in chieda il costo del biglietto pagato, ha diritto di ottenerlo. Tutto nasce dalla possibilità di rimborsare con un voucher a 18 mesi i passeggeri di voli annullati per l'emergenza Covid con un decreto che è il cosiddetto Cura Italia di marzo. Tornano in vigore queste regole anti-Covid, ma c'è qualche problema anche su quello? Allora, vorrei fare una chiarezza sul voucher, perché francamente mi sono studiata questa normativa e non la condivido per niente. Questo è il mio pensiero personale, però trovo che l'applicazione dell'articolo 88 bis del decreto sia in contrasto non solo con le norme comunitarie che prevedono la tutela del consumatore nell'ambito appunto del codice del turismo e quindi il diritto al rimborso integrale del biglietto in caso di cancellazione del volo o comunque della vacanza da parte del tour operator o del gestore del servizio. Ma è in contrasto peraltro con le norme del codice civile, perché io non vorrei dimenticare che esistono gli articoli 1256 e 1463 del codice civile che permettono al cittadino in caso di impossibilità sopravvenuta, come questo caso legato al Covid, che peraltro non aveva bisogno di un'ulteriore normativa perché è già normato nel nostro codice, di ottenere la restituzione e l'eventuale risoluzione sulla base della scelta del creditore. Ce lo dice il codice civile, ma nel caso chi è il creditore è l'utente che ha pagato il biglietto. Quindi la normativa che attualmente è stata imposta di questo voucher, che non ha bisogno di accettazione, ma io vorrei vedere se qualcuno lo rifiuta espressamente cosa dobbiamo fare. Ma a parte questo, se uno non potesse, per ragioni personali, perché è cambiato qualche cosa, utilizzare il voucher nei 12, 18 o quelli che siano mesi, che cosa facciamo? Che il gestore si tiene i miei soldi e io non usufruisco di un servizio? Bene, questo secondo me è in contrasto con le norme del codice civile, perché non possiamo disapplicare il codice civile in relazione ad una norma che è stata istituita per una situazione temporanea. Quaranta, lei che dice? Visto che è finito il periodo di emergenza, se la compagnia ha nulla a un volo, forse deve risarcire i passeggeri, punto e basta. Guardi, ci sono alcuni paesi, anche in Europa comunitaria, dove vengono delle restrizioni alla libera circolazione, soprattutto nei confronti dei cittadini italiani. Ce ne sono molti nel mondo dove la pandemia ancora evidentemente fa paura e sta creando problemi, altri ancora in Europa dove ci sono delle restrizioni. Cancellazioni da verso questi paesi possono trovare una copertura con la norma di cui parlavamo prima. Certamente per tutti quei paesi, tutti quei collegamenti, sia nazionali che intracomunitari, dove non ci sono restrizioni alla libera circolazione dei passeggeri, ogni cancellazione, dal mio punto di vista, ha un scopo prettamente imprenditoriale e commerciale, per cui deve essere trattata non con la norma di emergenza legata alla pandemia, ma con gli strumenti usuali che vedono, come diceva l'Avvocato di prima, la necessità della tutela assoluta del passeggero, a cominciare dalla restituzione del prezzo pagato, a meno che non accetti espressamente il voucher da poter utilizzare in un altro temporale. Passare per il codice del consumo, mi sembra di capire. Codice del turismo. Codice anche del turismo. Perché in questo caso abbiamo una normativa precisa. Allora, ecco i dati sulle vacanze annullate e i rimborsi. Sono il 35% le famiglie che hanno annullato una vacanza già pagata, il 21% che ha annullato un biglietto aereo di treni o di navi, il 25,5% non è riuscito a ottenere dei rimborsi e ha avuto un voucher da utilizzare in un'altra data, il 35% dei passeggeri. Dalla fame di liquidità nascono purtroppo situazioni innate come quelle che denuncia questa telespettatrice. Ascoltiamo. Buongiorno, ho versato una caparra di 400 euro all'agenzia per un appartamento a Dijamarina per giugno. Ho disdetto alla fine di aprile. Ho chiesto il rimborso e l'agenzia mi ha proposto o 200 euro o 400 euro da recuperare in seguito. Ho scelto 200 euro poiché non conosco il futuro. È regolare? Grazie. Allora, Silvia, come possiamo rispondere? Ma, allora, innanzitutto bisogna capire una cosa. Se l'agenzia per cui la signora ha fatto la prenotazione è un servizio turistico oppure semplicemente un'agenzia immobiliare che mi affitta l'appartamento perché cambia la norma di riferimento. Cioè, che cosa dobbiamo applicare al caso? Quindi, nell'ipotesi in cui si tratti di un tour operator, diciamo, che affitta l'appartamento a scopo turistico, allora si applicano le norme che abbiamo visto poco fa. Può proporlo il voucher, ma se la signora lo rifiuta siamo sempre indietro al 1463-1256 del codice civile in possibilità sopravvenuta. Quindi la signora, se volesse prendersi il voucher, se lo può tenere lì da parte e poi valuterà se utilizzarlo o meno. Ma questa proposta è una proposta che si può fare perché le parti si possono sempre accordare su tutto e venirsi incontro. Però la signora non è tenuta, non è obbligata ad accettare solo questo. Allora, 40, parliamo un attimo delle nuove regole previste a bordo degli aerei. Non esiste più l'obbligo di distanziamento di un metro all'interno di un aereo, è così? No, l'obbligo ancora esiste. Può essere derogato a certe condizioni che devono essere tutte soddisfatte. Sono previste nell'ultimo DPCM parato dal governo il 11 giugno. Le condizioni sono la presenza a bordo di particolari filtri, che si chiamano filtri EPA e che sono in grado di intercettare il 99% del particolato presente nell'aria. Ovviamente è necessario assicurare la misurazione della temperatura ai passeggeri prima che stagli a bordo. L'obbligo della mascherina per almeno 4 ore consecutive da sostituire, oltre alle 4 ore. La salita e discesa rallentata, quasi individuale, del passeggero il quale deve mettersi a sedere nel posto assegnato e non più muoverse, se non per estrema necessità. Una autocertificazione che attesti non aver avuto contatti con soggetti che sono stati esposti al virus o non aver avuto sintomi in un certo periodo di tempo del virus e una limitazione sulla grandezza del bagaglio che si può portare a bordo che non deve essere di grandi dimensioni. Come tutte queste condizioni siano soddisfatte, si può derogare all'obbligo di distanziamento a bordo. Grazie, 40.